Cinque donne e sette uomini, è tra loro che sarà scelto il miglior atleta dell'anno che si aggiudicherà il premio Pegaso per lo sport 2017, massimo riconoscimento sportivo della regione toscana. È stata l'assessora allo sport Stefania Saccardi a svelare la rosa dei dodici finalisti della diciannovesima edizione del premio. In corsa ci sono i campioni olimpionici Martina Batini, argento nel Fioretto, Rachele Bruni, argento nel nuoto, Simone Buti, argento per la palla a volo, Niccolò Campriani, doppio oro nel tirassegno, Gabriele Detti, due bronzi nel nuoto, Marco Innocenti, argento nel tiravolo double trap, Gabriele Rossetti, oro nel tiro a volo, Chiara Tabani, argento nella palla a nuoto. Poi Alessia Biagini, campionessa di spada, Giada Cavataio, vice campionessa mondiale di pattinaggio artistico, Alessio Cornamusini, vice campione mondiale di arrampicata sportiva, Francesco Manon, campione italiano di rugby. Questo Pegaso dello sport che arriva alla diciannovesima edizione, quest'anno la parte dal leone la fanno gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, che sono molti che hanno portato alla Toscana risultati straordinariamente importanti. Quest'anno il premio Fair Play se lo sono aggiudicate l'associazione sportiva dilettantistica San Cat e la fondazione Tommasino Baciotti per il torneo internazionale di mini basket che ha visto impegnati per tre giorni di sano sport 300 ragazzi. Il cui ricavato appunto è stato destinato alla fondazione Baciotti. Ci è sembrato un bel esempio da premiare come appunto modello di sport che mette insieme anche la parte dell'integrazione, del sociale e della solidarietà. La premiazione del miglior atleta dell'anno toscano avverrà il 14 marzo prossimo al teatro della Compagnia Firenze. È allora che vinca il migliore! Grazie.